Un lavoro di squadra per rendere l'estate Feltrina sempre più ricca di proposte ed iniziative. Il comitato Feltredop, in collaborazione con Comune di Feltre, Ascon Belluno e Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, ha studiato una lunga serie di iniziative pronte a richiamare lungo le vie del centro un numero importante di persone. D'altronde, ancora negli occhi di tutti lo splendido risultato in termini di presenze della Notte Rosa, la sera prima della tappa Feltre-Crocedaune-Monteavena del Giro d'Italia. L'impegno del Comune è quello anche di metterci delle risorse. Quest'anno, per la prima volta, aumentando l'importo economico, ci siamo impegnati per 25 mila euro da assegnare al Consorzio De Nomiti Prealpi attraverso il comitato Feltredop che realizza tutte le iniziative in collaborazione con il Comune per la nostra bellissima città. Questa sera, a Notte Bianca dei Saldi, come evento d'apertura, mentre il programma chiuderà venerdì 16 agosto con la musica Sotto le Stelle. All'interno di esso, previsto ovviamente, il fine settimana dedicato al Palio il 2, 3 e 4 agosto. Oltre 10.000 le brochure che si possono trovare a Feltre non solo, senza tenere conto, della pubblicità attraverso social e media. Quest'anno, per alzare l'asticella, è stato fatto un fine settimana, che sarà il 26, il 27 e il 28, dove all'interno dei classici venerdì sera sarà fatto un Backstool Vintage e poi sarà fatto un simposio di sculture. E poi, dopo, abbiamo la grossa novità che finirà con il 9 e il 16 agosto, che il 9 agosto avremo ancora le fontane danzanti a Feltre. Come comitato Feltredop siamo molto contenti di tutto quello che sta avvenendo, perché la collaborazione che si sta facendo con il Comune, con la Camera di Commercio, con l'ASCOM, col Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi e con la Camera di Commercio di Belluno e Treviso è una cosa che sta dando dei buonissimi risultati.